Gli indranghetisti come i macellai messicani, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri intervistato da Radio Rai, spregiudicati e anche affidabili, così sono ritenute le cosche calabresi, le cui strategie di consenso sono mutuate dai signori della droga. Sindaci calabresi, chi sale e chi scende, lo studio di IPR Marketing fa parecchio discutere, non vi sono particolari sorprese tra i primi cittadini della nostra regione, se non la mesta posizione di coda attribuita al crotonese Peppino Vallone. Nasce Lab Renato Dulbecco, sarà il più grande della Calabria con 700 posti letto, frutto della fusione degli ospedali nel capoluogo di regione, viene portato così a compimento il primo progetto strategico della gestione commissariale. Casabona ritorna da prefetto, già in prima linea contro Cosa Nostra, Camorra, Indrangheta, poliziotto pluridecorato, già questore di Reggio Calabria, si è insediato a Vibo Valencia. L'incontro con i giornalisti e le sue parole, in prima linea per i più deboli. Dirti soccer, calabresi a rischio, il nuovo filone a proda nelle aule della giustizia sportiva, la procura federale chiede nuovi pesanti provvedimenti, tre punti di penalizzazione per il Catanzaro e due per la Vigor. Buon pomeriggio ai telespettatori della C, dunque questi principali fatti del giorno, in apertura di telegiornali, lo avete sentito dai titoli, le durissime parole del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, tra i principali candidati alla guida della procura di Catanzaro, oltre che di Milano, Nicola Gratteri, che dice che gli indranghetisti calabresi sono come i macellai messicani. Loredana colloca. Feroci, capaci di uccidere decine di oppositori per poi appenderli a un ponte e di lasciarli lì per giorni e giorni, perché siano di monito alla gente che con i lo setas non si scherza. Così Nicola Gratteri descrive le azioni di terrorismo messe in atto dai membri dei cartelli colombiani e messicani, fidati interlocutori dei broker dell'Andrangheta calabrese. Intervistato nel programma Voci del Mattino in onda su Radio Rai, il PM Reggino ha commentato la cattura di El Chapo al secolo Joaquin Guzmán Loeira, con all'attivo circa 200 omicidi, signore incontrastato della droga, e che non ha nascosto la sua stima per la multinazionale calabrese del crimine, capace di fatturare 50 miliardi di dollari ogni anno, proventi per gran parte derivanti dal narcotraffico. Ma non è tutto, perché i narcotrafficanti colombiani e messicani non si limitano a chiudere affari con le cosche, ma da qualche anno ne imitano anche i comportamenti e le strategie, soprattutto per quel che riguarda la costruzione dei consensi sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo notato che le organizzazioni criminali terroristiche messicane somigliano all'Andrangheta, cioè mentre prima i cartelli messicani si interessavano solo di acquistare e distribuire la cocaina all'ingrosso. Oggi le organizzazioni messicane hanno mutuato dall'Andrangheta il controllo del territorio, cioè stanno sul territorio e si comportano esattamente come l'Andrangheta, cioè incidono e interferiscono sugli scambi commerciali, sugli scambi economici, sul potere e anche sulla politica e anche sul sistema elettorale. Loredana Colloca per la Cineus 24. Come al solito fa parecchio discutere la classifica sul gradimento dei sindaci che IPR Marketing ha preparato per il sole 24 ore. Ecco qual è il giudizio sui primi cittadini secondo appunto IPR Marketing. C'è chi sale di poco e chi precipita nella classifica di gradimento dei sindaci italiani stielata da IPR Marketing per il sole 24 ore. I cinque sindaci calabresi non fanno segnalare grossi cambiamenti di sorta nel cuore dei cittadini. Tre, Mario Chiuto, Giuseppe Falcomatà e Elio Costa, amministratori rispettivamente di Cosenza, Reggio e Vibo, restano sopra il 50% di gradimento. Sergio Abramo, primo cittadino di Catanzaro, eletto nel 2012, rimane stabile al 42%. Crolla invece la popolarità di Peppino Vallone, storica fascia tricolore del comune di Crotone, che scivola al centesimo posto in classifica. E' letto nel 2011, ha perso in un anno il 17% del gradimento. Flessione anche per Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria, che abbandona gli allori del 62% di gradimento, perdendo sette punti percentuali, che lo fanno scendere al 55% di gradimento e alla posizione 41% della classifica. Per gli altri, i numeri sono questi. Occhiuto ottiene un punto percentuale in più, passando dal 54% al 55%. Elio Costa, primo cittadino di Vibo Valencia, eletto solo nel 2015, ha invece il 52% e si attesta al posto 63%. Peppino Vallone perde due punti percentuali, passando dal 44% di gradimento del 2014 al 42% del 2015. Da Vibo Valencia, per la CNews24. La sanità disco verde all'azienda ospedaliera unica di Catanzaro, con 700 posti letto, sarà il più grande hub sanitario della Calabria. Ce ne parla in questo servizio Tiziana Bagnato. Il primo importante passo è stato fatto. Il commissario ad acta Massimo Scure, il rettore dell'università, Aldo Quattrone, hanno posto la firma sull'atto che costituisce l'avvio ufficiale dell'azienda ospedaliera Renato Dulbecco, quella che sarà in sostanza la struttura sanitaria più grande della Calabria, con una capacità di 700 posti letto. Il documento vergato ora del via la riduzione in tre anni delle unità operative che al momento compongono il Pugliese Ciaccio e il Mater Domini, un primo tassello per un progetto che da oltre dieci anni non riesce ad approdare in un portosicuro. Le unità operative complesse nei prossimi 36 mesi passeranno da 86 e 64. A Germaneto rimarranno intatte e verranno integrate dal Dipartimento Materno Infantile. Nella struttura universitaria verranno anche realizzati una sala parto, un reparto di terapia intensiva neonatale e un pronto soccorso specialistico. Al Pugliese invece si lavorerà sull'allestimento di un reparto di oncologia. L'accordo firmato ieri sarà parte integrante del protocollo di intesa che dovrà essere siglato tra università e regione e successivamente incluso in una proposta di legge da approvare a Palazzo Campanella. Da Catanzaro, Tiziana Bagnato per la Cineus 24. Intanto a Vibo Valencia vanno avanti le inchieste sul caso del bimbo morto nel grembo materno. In procura sono stati interrogati tre medici indagati, mentre sul piano amministrativo la relazione degli ispettori regionali è stata trasmessa sul tavolo del capo Dipartimento Fatarella. Ma vediamo il servizio. Ci vorranno tre mesi prima di avere i risultati dell'autopsia effettuata sul corpicino del feto morto in grembo allo Iazzolino di Vibo Valencia. In attesa dei dati scientifici, la Commissione regionale tutela della salute inviata dalla regione ha fatto tappa ieri allo Iazzolino per raccogliere tutti gli elementi utili a fare luce sulla vicenda. Nel reparto di ginecologia sono stati ascoltati i tre medici indagati con l'unico obiettivo di verificare la corretta applicazione delle procedure medico-sanitarie. L'esito dell'ispezione è stato già trasmesso al direttore generale del Dipartimento regionale Riccardo Fatarella e al commissario regionale della sanità Massimo Scura. Per il legale della giovane coppia di San Calogero, l'avvocato Aldo Currà, il bimbo si poteva salvare. Noi battiamo principalmente sulla negligenza da parte dei medici. Da parte dei medici, perché l'hanno visitata il 26 di sera, era entrata perché lamentava un dolore addominale grave. Allora a questo punto no, non si può mandare una donna a casa in questo modo. Parla invece di evento non diagnosticabile, il primario del reparto, che difende l'operato dei suoi medici. Il bambino, dentro la pancia della mamma, ha iperdisteso ancora di più il cordone e ha interrotto la circolazione materno-fetale. È una causa non diagnosticabile. Voi avete fatto tutto quello che era possibile fare. E intanto prosegue l'indagine interna avviata dall'ASP di Vibo Valencia per fare chiarezza sull'accaduto, come confermato dal direttore sanitario Michelangelo Miceli. Noi non vogliamo difendere nessuno. Noi vogliamo fare chiarezza a tutela dell'utenza, e in particolare della famiglia dei signori De Masi. Ma nel contempo dobbiamo tutelare la professionalità dei nostri operatori, che vuol dire fare estrema chiarezza. Da Vibo Valencia per la CNews 24, Cristina Iannuzzi. Il lavoro, protocollo d'intesa tra Regione, Corti d'Appello e Procure, che consentirà l'impiego dei precari. Da un lato si garantisce la continuità occupazionale, e dall'altro si tampona la tavica carenza di personale nel settore della giustizia. Servizio di Anna Prete. Spero che questo percorso poi apra la strada a una nuova speranza. Finalmente una nota positiva per i precari della giustizia calabrese. Dopo tante proteste arriva la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, utile per cercare di svuotare il bacino di ammortizzatori sociali, e anche per dare soccorso alla macchina regionale giuridica che è in affanno. Il protocollo, firmato dal Presidente della Regione Mario Liverio, dall'Assessore al Lavoro Federica Roccisano, con le Corti d'Appello e le Procure Generali della Calabria, prevede quindi l'erogazione da parte della Regione di un pagamento di mille borse di lavoro per altrettanti lavoratori che verranno impegnati nel settore della giustizia. Una boccata d'ossigeno per mille lavoratori che rischiavano di dover interrompere un'esperienza formative che ora possono sperare in ulteriori prospettive occupazionali ed economiche. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Mario Liverio. Attraverso la firma di questo protocollo facciamo una duplice operazione. Da una parte aiutiamo l'amministrazione della giustizia a sopperire alle incompense con le quali quotidianamente devi fare i conti e dall'altra parte creiamo opportunità di lavoro per mille e mille persone. Un'iniezione come questa di mille giovani negli uffici giudicanti e requirenti dei due distretti di Corti d'Appello e della Calabria è assolutamente fondamentale. È anche un'iniezione di concerto al Presidente anche di positiva o dimostrazione ai cittadini calabresi che si fa che noi operiamo, non ci limitiamo a piangere perché bisogna smetterla di piangere in Calabria. Il risultato è stato possibile anche grazie all'impegno dell'assessore al lavoro Federica Roccisano. Da Catanzaro, Anna Prete per la CNews24. La pagina dell'economia. Un ponte ideale tra la Calabria e la Russia sia per una sergia possibile mirata allo sviluppo economico. Di questo si è parlato nel corso di un incontro a Reggio Calabria. Tiziana Bagnato. Togliere le sanzioni. Non ha dubbi, Sergei Razov, ambasciatore russo in Italia, è intervenuto a Reggio Calabria all'incontro Italia-Russia, sinergie internazionali per favorire la cooperazione e la crescita economica nei territori. Un evento organizzato dalla General Invest Group e che ha visto una particolare attenzione verso la punta dello stivale che secondo Razov sarebbe proprio tra coloro che più pagherebbero le sanzioni imposte dall'Unione Europea al paese. Tendendo poi una mano ad una terra in cui agricoltura e turismo potrebbero diventare, a suo dire, assi portanti per future collaborazioni. Per quanto riguarda la parte meridionale dell'Italia, qua intendo non soltanto la Regione di Calabria, bisogna indicare prima di tutto le prospettive nel settore di turismo e dell'agricoltura. Credo che qua possiamo parlare e possiamo discutere cosa si può fare. Al convegno a cui ha preso parte anche il sottosegretario e la presidenza del Consiglio, Marco Minniti, molto si è discusso di quelle sanzioni che stanno mirando il mercato con un crollo degli scambi commerciali, ma anche della politica italiana, apprezzata nel suo tentativo di mediare nella crisi ucraina. Allo stesso tempo, però, per la Calabria si aprono ora importanti scenari. C'è oggi un'opportunità importante per la Calabria. Molti operatori, dopo le sanzioni, hanno lasciato il proprio mercato in Russia. Operatori non solo italiani, ma anche operatori di altri paesi europei ed extraeuropei. Per cui c'è ora un vuoto che va riempito. Da Reggio Calabria, per la CNews24. Poliziotto pluridecorato, già questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona torna in Calabria, insediandosi come prefetto di Vibo Valencia. Vediamo. Poliziotto pluridecorato, dal ventre della Sicilia, Milano, passando per Reggio Calabria e Caserta, dalla lotta all'Andrangheta alla lotta al clan dei Casalesi. Oltre 32 anni di polizia giudiziaria e intelligence, dieci dei quali, vissuti sotto scorta, Carmelo Casabona giunge a Vibo Valencia dall'ufficio territoriale del governo di Sondrio, dopo una straordinaria carriera. Prefetto, dal 30 maggio 2012, si è insediato nella sua nuova sede, incontrando stamani i giornalisti. La praticità del poliziotto, che ha poco tempo per pensare ha il dovere di agire subito senza sbagliare, il temperamento dell'uomo del profondo sud, consapevole che esistono drangheta in malaffare, ma la politica è scarso senso del dovere, consapevole però che le persone per bene sono la maggior parte e che queste, anche se a volte hanno paura, hanno il diritto di essere tutelate e protette sopra ogni cosa. Sarà un prefetto, ha detto Carmelo Casabona, che vivrà con la gente tra la gente, che il caffè, ha spiegato ai giornalisti, non se lo fa portare in ufficio, ma preferisce scendere in strada a prenderlo. Vibo Valencia, la CNews24. Ed ecco le prime dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni, proprio a margine della conferenza stampa dal prefetto Casabona. Tengo giusto, in una realtà difficile, poter condividere tutte le ansie e tutte le problematiche con i cittadini che vogliono legalità, che hanno sete di legalità e che vogliono spendersi per migliorare questa società. Io sarò al loro fianco, in tutti i sensi e in tutti i modi. In prima fila sarò io a spendermi per la legalità e per dare un aiuto alla popolazione di questa provincia, perché ritengo che sia importante farlo, perché non è una provincia che deve essere esclusivamente etichettata perché c'è l'antrangheta. Questo lo rifiuto assolutamente. Voglio che questa provincia sia etichettata come una provincia normale, di gente normale, di gente che vuole la legalità e che vuole lavorare in serenità. Questo è il mio scopo, quello di portare questa provincia in questo canale di legalità e anche di sviluppo economico. Mi spenterò in tutti i modi. Potasse che resterò solo, ma io penso di no, perché alla fine tanta gente ha voglia di legalità, tantissima, magari non lo dimostra. Io cercherò di tirarli fuori e cercherò di comporre una squadra efficace affinché questo obiettivo possa essere realizzato. Vibo Valencia, la CNews 24. Prima gli attentati di Gioiosa Ionica, poi l'incendio dello scuolabus a Martone. L'internalizzazione dei servizi nella Locrida evidentemente non è gradita a qualcuno. Il punto della situazione è in questo servizio di Francesco Creazzo. Incendiato e distrutto, l'altro ieri notte, l'unico scuolabus del comune di Martone. verso le due ignoti hanno sparso del liquido infiammabile sull'unico mezzo a disposizione dei bambini per poi darlo alle fiamme. L'allarme è stato dato dall'ex procuratore della DDA di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, originario del paese della Valle del Torbido, che si trovava a casa. Il piccolo scuolabus del comune serviva anche gli abitanti di una frazione di Gioiosa e il servizio era stato recentemente internalizzato dal comune di Martone, togliendo così ad aziende private una fonte di guadagno. Un copione già visto nella zona. Il 6 dicembre scorso il sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda, aveva ritrovato entrambe le proprie auto danneggiate a colpi di pistola e il 1 gennaio due mezzi per la raccolta dei rifiuti appena acquistati dal comune sono stati incendiati. Anche qui il copione è lo stesso. Il comune internalizza un servizio e questo diventa immediatamente l'oggetto di un'intimidazione. A decidere se si tratta di un tentativo dell'andrangheta di influenzare la politica sarà l'autorità giudiziaria. Da Reggio Calabria per la CNews 24, Francesco Creazzo. Andiamo adesso al caso dello Sporting Club di Locri. Squadra di calcio a 5 femminile è divenuta un fenomeno mediatico dopo la clamorosa denuncia dell'ormai ex presidente. Le indagini vanno avanti e sono prossime ad una svolta che potrebbe essere sorprendente. Si spengono le luci su Sporting Locri Lazio, sulla festa a cui ha partecipato tutta l'antimafia locale, la politica nazionale, persino i vertici del calcio con il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio. A luci spente, però, gli inquirenti ricominciano a indagare sulle minacce ricevute dal presidente della squadra di calcio a 5 femminile. I bigliettini adagiati sul finestrino dell'auto, le ruote sgonfiate ma non bucate, potrebbe essere una farsa, almeno stando ai rumors che trapelano dagli ambienti giudiziari. I carabinieri stanno visionando in queste ore i documenti dello Sporting Locri, in particolare i bilanci societari e il loro stato di salute. L'altra ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di una vendetta personale, magari amorosa, nei confronti dello stesso Armeni da parte di un ex amante di una delle calciatrici, anche se questa diceria pare trovare poco seguito nelle piste a disposizione degli inquirenti, i quali comunque, per bocca del procuratore di Locri, Luigi D'Alessio, escludono totalmente un coinvolgimento dell'andrangheta in questa vicenda. Quello che è certo è che le ragazze sono scese in campo contro la Lazio e avrebbero tutta l'intenzione di farlo per il resto del campionato. E continuiamo con la cronaca, parliamo del sacerdote accusato di pedofilia a Cosenza. Nei prossimi giorni sarà interrogato il bambino vittima dei presunti abusi contestati. Successivamente il confronto tra la stessa vittima e l'accusato in sede di incidente probatoio. Ce ne parla in questo servizio Loredana Colloca. Pochi punti fermi in una vicenda torbida sulla quale la procura di Cosenza sembra intenzionata a gettare piena luce. Una data da segnare, è il 18 gennaio il giorno in cui la presunta vittima di abusi sessuali da parte di un sacerdote varcherà il portone di entrata del Tribunale Bruzio. A richiedere l'audizione autorizzata dal GIP il pubblico ministero Bruno Tridico un incontro che impone un approccio estremamente cauto perché la presunta vittima ha solo 11 anni. Il sacerdote è cinquantenne insegnante di religione fino a poco tempo fa in un istituto cosentino è già stato sottoposto ad accertamenti nel mese di novembre. Gli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Giuseppe Zanfini perquisirono in quell'occasione l'appartamento del sacerdote portando via materiale informatico e altri documenti. Secondo quanto trapelato nei supporti informatici analizzati non sarebbe stato trovato materiale video compromettente. Diversa la questione delle accuse di molestie che sarebbero avvenute all'interno delle aule della scuola in una pausa tra una lezione e l'altra. circostanza che sarebbe stata riferita dalla vittima alle suore che gestiscono la casa famiglia dove risiede. Altro passo possibile nella ricerca della verità potrebbe essere il ricorso all'incidente probatorio circostanza che porterà ad un confronto diretto tra presunta vittima e presunto carnefice. Ogni elemento emerso in quell'occasione rappresenterà quindi una prova nell'eventuale successivo confronto dibattimentale che è lo stato attuale con i pochi elementi a disposizione sembra lontano anni luce. Da Cosenza Loredana colloca per la Cineus 24. E adesso le altre notizie di cronaca della giornata. Un 43enne regino è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di reati in materia di armi e stupefacenti ritenuto responsabile di tentato omicidio spari in luogo pubblico porto e detenzione illegale di arma da sparo e munizioni e ricettazione. L'uomo la sera dello scorso 9 gennaio per dissidi di natura familiare avrebbe esploso sei colpi di pistola calibro 7,65 contro la finestra di un'abitazione nel quartiere Archi nel tentativo di colpire un cinquantenne con il quale aveva avuto un diverbio. Un tetto di velto è piombato sulle vetture in sosta cornicioni vetri alberi e pali della pubblica illuminazione pericolanti sono molti i danni registrati a Catanzaro a causa del forte vento che ha letteralmente investito la città nel corso della notte che non si è ancora placato il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato da diverse richieste di aiuto al punto che sono state incrementate le squadre in servizio che hanno effettuato sopralluoghi di interventi nel corso di tutta la mattinata la polizia ha arrestato per i reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia un 35enne originario del Burkina Faso irregolare sul territorio nazionale in particolare il personale del commissariato di Gioia Tauro è intervenuto a seguito della richiesta di aiuto di una donna che sosteneva di essere stata picchiata dal compagno l'uomo è stato fermato all'interno dell'abitazione in cui conviveva con la vittima una 46enne nigeriana che ha riportato traumi ed ecchimosi guaribili in sette giorni la guardia di finanza di Rossano ha arrestato tre persone sorprese a spendere banconote false in un esercizio commerciale del luogo gli spacciatori di false banconote hanno tentato di nascondersi tra la folla ma sono stati i tre, due napoletane e un uomo di Corigliano Calabro con diversi precedenti penali sono stati arrestati e denunciati alla procura della Repubblica di Castrovilla per spendite e detenzione di banconote da 100 euro false e per ricettazione e adesso il meteo a partire da oggi una perturbazione di origine siberiana raggiungerà la Calabria a Apice atteso per il weekend l'atteso inverno si può dire adesso arrivato il freddo in questo inverno si era fatto attendere lasciando spazio a parentesi di stridente primavera e temperature superiore alla media del periodo ma stando alle previsioni per i prossimi giorni la situazione è destinata a cambiare bruscamente e drasticamente il freddo spodestato da continue parentesi pseudo primaverili ritornerà ad essere sovrano della stagione in tutta Italia al nord questo porterà fiocchi bianchi anche a quote basse all'estremo sud invece condizione ancora più preoccupante a causa della fragilità del suolo e delle problematiche derivanti dal dissesto idrogeologico accadere sarà soprattutto tanta pioggia la responsabile di questo repentino peggioramento arriva dalla Siberia ed è una perturbazione di aria fredda destinata a calare come una cortina gelida su tutta la penisola in pochi giorni raggiungerà l'estremo sud e dunque la Calabria dove perfino sulle zone costiere potrebbero verificarsi precipitazioni a carattere nevoso l'arrivo delle correnti siberiane avrà come conseguenza la rapida diminuzione delle temperature di giorno il calo sarà più graduale e le temperature non supereranno i 5-10 gradi al centro-sud l'invito come sempre in queste circostanze è dunque quello di ridurre al minimo le situazioni di pericolo limitare gli spostamenti in particolare tenersi lontani dai corsi d'acqua ponti, passerelle e aree dissestate o allagate infine in caso ci si trovi in un luogo colpito da abbondanti precipitazioni è consigliabile evitare di scendere in scantinati e sottopassi e percorrere sentieri sottoscarpate naturali o artificiali Loredana Colloca per la Cineus 24 e torniamo a Vibo Valencia dove dal sindaco Elio Costa nonostante il successo elettorale e le classifiche stilate da IPR marketing ci si aspettava ben altri risultati ciò è una realtà nella quale tra emergenza rifiuti e degrado tutto cambia per non cambiare cambieranno sindaci amministratori e ditte appaltatrici ma la situazione ambientale è sempre la stessa Vibo è sempre la stessa Elio Costa aveva promesso un ritorno alla normalità non magie ma normalità e al primo piano del suo programma elettorale c'era proprio l'ambiente l'obiettivo principale spiegava il primo cittadino a febbraio è garantire al cittadino una migliore qualità creando le condizioni perché possa vivere in una città sostenibile per soddisfare le più elementari esigenze di vita bugie incompetenza politica lavoro in corso ci si chiede al netto di considerazione gratuite o di parte ma Vibo può ancora attendere il presente purtroppo dei suoi giudizi che oggettivamente sono negativi spesso nell'occhio del ciclone e delle polemiche e non solo per ciò che concerne l'emergenza rifiuti a Vibo Valencia ai nostri microfoni parla la dirigente comunale Adriana Teti questo capitolato è stato pensato a otto mesi per la durata quindi anche la percentuale della differenziata è diversa cioè è stato studiato per un contratto di un milione di euro quando poi noi andremo a fare un capitolato speciale d'appalto di 15 milioni di euro certamente lì faremo uno studio un po' approfondito faremo dei miglioramenti il sindacato lo Sky Cobas non ha letto attentamente il capitolato speciale d'appalto e invito tutta la città a leggerlo che è sul sito l'articolo 26 di questo capitolato speciale parla dello spazzamento per l'intero territorio comunale e soprattutto ci sono le cartine allegate cioè loro non hanno letto per intero le cartine allegate perché ad un certo punto noi riportiamo tutte le vie del comune e per semplificazione di grafico poi diciamo eccetera eccetera cioè nel senso che raggruppiamo nelle cartine rispetto al territorio perché c'è la cartina di Vibomarina la cartina Piscopio di tutto il territorio comprese le frazioni indichiamo tutte le vie cioè non le indichiamo cioè nel senso che non le scriviamo materialmente ma nell'articolo ci è indicato tutto il territorio cosa che non potrebbe essere il contrario le carte sono tutte pubblicate quindi quello che dico io non è un'invenzione è un'affermazione tecnica di come sono andate le cose che non poteva essere diversamente io non lo so perché Piperno cioè i dirigenti piacciono ai funzionari quando risolvono i problemi dei lavoratori quando si tratta poi assumendosi responsabilità perché qui abbiamo avuto seri problemi con i lavoratori e ci siamo assunte le responsabilità per risolverlo poi i funzionari e i dirigenti vengono trattati malissimo sulla stampa allora questi dirigenti sono bravi quando gli conviene a Piperno e sono invece da buttare via quando non gli conviene non leggendo attentamente le carte e adesso la pagina della moda sei modelli accanto alle statue dei grandi maestri del novecento sono le protagoniste del calendario percorsi di Modalmab realizzato a Cosenza per noi Anna Prete si chiama percorsi di Modalmab il calendario realizzato dall'associazione PUAE patrocinato dal comune di Cosenza è il frutto di un articolato progetto che si propone di istituire un singolare connubio tra l'arte di cui sono espressione le opere del museo all'aperto Bilotti disseminate sull'intera isola pedonale di Corso Mazzini e gli scatti fotografici che ritraggono sei modelle proprio accanto ad alcune delle statue dei più grandi maestri del novecento ad organizzare e promuovere il progetto Giada Falcone che ha motivato la nascita di quest'idea con la finalità di promuovere il valore artistico del Mab attraverso uno strumento come il calendario in grado di arrivare in maniera diretta ai cittadini ed anche ai visitatori che giungono a Cosenza da ogni parte d'Italia e del mondo L'idea e il progetto dell'associazione Acqua è quello di creare un accostamento tra la moda e l'arte in particolare l'arte espressa nelle statue del Mab il valore artistico del Mab abbiamo cercato di valorizzarlo e di dare soprattutto dignità a un aspetto della città che merita tanto alle opere d'arte del Mab sono state affiancate sei modelle finaliste della prima edizione del concorso di moda e cinema Jack Sispila che nel calendario hanno indossato gli abiti realizzati dall'Accademia New Style di Cosenza da Cosenza per la Cineuse 24 Anna Prete Ed ora lo sport che si lega alla cronaca con il processo scaturito dal secondo filone di inchiesta Dirty Soccer la procura federale ha chiesto tre punti di penalizzazione per il Catanzaro e due per la Vigor i dettagli in questo servizio il mondo del calcio torna a tremare o forse non ha mai smesso di farlo da quel famoso 19 maggio dello scorso anno in cui scattò l'operazione Dirty Soccer istruita dalla procura di Catanzaro dopo le prime condanne si è tornati in aula per discutere il nuovo filone di inchiesta una cascata di punti di penalizzazione con gli richiesti della procura federale guidata da Stefano Palazzi 148 le società coinvolte 28 quelle accusate a vero titolo di illecito sportivo e ben 49 tesserati chiamati in causa rischia di dire addio al calcio Arturo Di Napoli attuale tecnico del Messina accusato di aver partecipato attivamente alla combina di L'Aquila Savona la procura ha chiesto complessivamente 4 anni di squalifica e 60.000 euro di ammenda chiesti 4 anni anche per Obenge Guidone del Sant'Arcangelo 32 punti di penalizzazione e 205.000 euro di multa per L'Aquila 20 punti per la Propatria 12 per il Sant'Arcangelo ma fa rumore di più in Calabria e soprattutto il meno 3 in classifica che la procura avanzato per il Catanzaro e il Lega Pro e l'ulteriore meno 2 in graduatoria per la Vigor La Mezzia già penalizzata con la retrocessione in Serie D al termine del processo legato al primo filone di inchiesta sui tre colli ci sono in ballo anche 6 mesi di inibizione e 30.000 euro di multa per il presidente dell'US Giuseppe Cosentino e 3 anni di stop e 50.000 euro per il centrocampista giallorosso Domenico Giampà richiesta importante per Armando Ortoli ex DS per lui PM hanno richiesto 4 anni di squalifica ora la parola passa alle difese mercoledì mattina la deposizione di Cosentino e la ringa del legale Rondinelli poi toccherà la Vigor club sul quale pende anche una multa di 25.000 euro da Catanzaro per la CNews 24 proseguiamo con lo sport la ventunesima giornata di Serie D regala il primo posto solitario alla frattese riscatta la Vibonese mezzo sorriso per Reggio Roccella e Vigor piange il Rende ma facciamo il punto della situazione in questo servizio la frattese Befferrenda partita chiusa stacca la Cavese e invetta la classifica una zona di troppo manda in confusione l'elettroguardia siliana regalando l'intera posta in palio alla regina del torneo a decidere la zampata di Celiento male la Cavese che viene fermata sulla 2-2 dalla penultima formazione del campionato lo Scordia a Cava infatti non è bastata la doppietta di De Rosa raggiunto per due volte prima da Simonetti e poi da Provenzano rallenta Sarno la rincorsa del Reggio Calabria Zampaglione Lude gli Amaranto che sprecano il raddoppio e poco dopo si fanno riacciuffare da Di Capua dietro Reggini a Versa Normanne e Vibonese i primi strappano un punto a noto mentre Rossoblu di Gaetano Di Maria rispondono sul campo alle critiche ricevute dopo il Capone il derby contro il Rende rifilando un roboante poker al Marsala di Allegretti da Dalt e di uno scatenato a Cosenza autore di una doppietta le firme sui golla risultato a reti bianche tra Leon Fortese e Palmese mentre il Due Torri inciampa per la seconda volta consecutiva in questo girone di ritorno lasciando i tre punti alla Gelbison vincente grazie alle reti di Iorio e Torraca Gragnano fermato sull'1-1 dalla Vigor Lamezia con i Lametini che nel finale hanno avuto due clamorose chance per stendere più quotati avversari incredibile l'errore di Spano dal dischetto a 5 minuti dal Kong 1-1 anche tra Rocella e Agropoli pari giusto caratterizzato dal botte e risposta autografato Capezzoli e Cioffi Davibo Valencia per la Cineus 24 ed è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione prossimo appuntamento oggi alle 16.30 e adesso come sempre vediamo un breve riepilogo dei principali servizi del nostro telegiornale buon proseguimento feroci capaci di uccidere decine di oppositori per poi appenderli a un ponte e di lasciarli lì per giorni e giorni perché siano di monito alla gente che con i lo setas non si scherza così Nicola Gratteri descrive le azioni di terrorismo messe in atto dai membri dei cartelli colombiani e messicani fidati interlocutori dei broker dell'Andrangheta calabrese c'è chi sale di poco e chi precipita nella classifica di gradimento dei sindaci italiani stielata da IPR Marketing per il sole 24 ore i cinque sindaci calabresi non fanno segnalare grossi cambiamenti di sorta nel cuore dei cittadini il primo importante passo è stato fatto il commissario ad acta Massimo Scure il rettore dell'università Aldo Quattrone hanno posto la firma sull'atto che costituisce l'avvio ufficiale dell'azienda ospedaliera Renato Dulbecco quella che sarà in sostanza la struttura sanitaria più grande della Calabria con una capo tre mesi prima di avere i risultati dell'autopsia effettuata sul corpicino del feto morto in grembo allo Iazzolino di Vibo Valencia in attesa dei dati scientifici la commissione regionale tutela della salute inviata dalla regione ha fatto tappa ieri allo Iazzolino per raccogliere tutti gli elementi utili a fare luce sulla vicenda tutto pluridecorato dal ventre della Sicilia a Milano passando per Reggio Calabria e Caserta dalla lotta all'Andranita alla lotta al clan dei Casalesi oltre 32 anni di polizia giudiziaria e intelligenza visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia